Noi, tiri dentro la pancia, non respirare Vogliamo sentirci tutti un po' Mariano Di Vaio E quindi ecco a voi K di Dolce Gabbana Che è il King, non so mica come chiamarla Comunque, On Your Life King of Your Own Life Vi dico la verità, appena l'ho vista questa prana ho detto No, non ce la farai mai Questo profumo non riuscirà mai Non riuscirà mai E ho preso un'enorme cantonata Infatti secondo me questo è proprio il classico esempio di un testimonial scelto perfettamente Chi non vorrebbe assomigliare a Mariano Di Vaio di Noi Maschietti Ho scelto il testimonial 10 Basta una spruzzata di questa fragranza e subito sei Mariano Di Vaio Che va a girare poi per Montepulciano con sua moglie, con suo figlio Insomma a fare una vita tipicamente italiana Di questo bisogna parlare, della comunicazione Perché la fragranza in sé ha poco da dire 4 per la fragranza Packaging 2 Secondo me un riciclone di tante bottiglie che erano rimaste da questa collezione Limite del panchiano Perché ovviamente il tappo è caduto e si è già distrutto Però comunque una fragranza sulle note legnose Vediamo un po', abbiamo il paciule, abbiamo il vetiver, abbiamo la lavanda Quindi la sabbia sclarea, è un fougere Dalle note anche agrumane Ma di maschietto Cioè è proprio un profumo all'acqua di Gio Boh, vedete voi Sottoscrivetevi al canale Facebook, Instagram, Twitter Like, pollice alzato Ve voglio bene Fatemi compri che è meglio Grazie a tutti